Da mesi era costretta a subire le violenze sessuali di un gruppo di ragazzini, obbligata a soddisfare tutte le loro perversioni per evitare la vergogna di veder pubblicati online i loro incontri. Poi non ce l'ha più fatta ed ha deciso di raccontare tutto a mamma e papà. È partito da qui il lavoro dei carabinieri di Bari che ha fatto luce su una drammatica storia di abusi ai danni di una bambina di soli 12 anni. Poco più grandi i suoi carnefici, due 17enne trasferiti in una comunità, un 15enne direttamente rinviato a giudizio e due 13enni non imputabili per via dell'età. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni del capoluogo, sono scattate dopo la denuncia presentata dai genitori della vittima. Nell'ultimo periodo avevano notato qualcosa di strano nella loro bambina, un atteggiamento di grande preoccupazione. Dopo qualche insistenza la piccola ha deciso di liberarsi del peso che portava da diverso tempo, confessando in lacrime tutte le violenze. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di risalire ai primi violentatori, anche grazie alle testimonianze raccolte dalla dodicenne nel corso di diverse audizioni protette. La piccola ha riferito di essere stata costretta per mesi a subire violenze sessuali di varia natura, sempre in luoghi insalubri. Per ottenere il suo silenzio, i ragazzini minacciavano di diffondere un video che la ritaeva durante un rapporto con uno di loro. In base a quanto emerso nel corso delle indagini, il branco, non curante dei pianti e delle richieste di aiuto della bambina, l'avrebbe obbligata a sottostare a turno ad ogni richiesta. Una volta raccolta la denuncia, i carabinieri hanno agito con cautela e tempestività, effettuando sopralluoghi e ascoltando le testimonianze di tutti coloro che hanno anche in minima parte percepito o avuto il sentore delle violenze. Altre informazioni sono state raccolte attraverso gli accertamenti tecnici eseguiti sui dispositivi informatici in possesso dei giovanissimi. Altre prove dell'incubo vissuto dalla ragazzina sul quale finalmente è stata scritta la parola fine.